Siamo ripartiti, abbiamo cercato di giocarlo alla palla, soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato parecchio alla palla, abbiamo cercato di costruire, ripartire, abbiamo avuto le nostre occasioni, le nostre ripartenze, ci è mancato l'ultimo passaggio, però dobbiamo far meglio, su quel lato dobbiamo far meglio, però i ragazzi hanno lottato, abbiamo giocato su tutte le palle, c'è stata una partita a Gagliart, abbiamo ben giocato. Il punto fa sempre morale alla fine, un risultato positivo fuori casa è sempre ben visto, abbiamo giocato, è una buona squadra, una squadra che comunque ci ha fatto soffrire, però noi dal lato nostro abbiamo dato tutto quello che avevamo e il punto va benissimo anche per noi. È un bilancio abbastanza buono, due partite fuori casa e una in casa sono abbastanza, col Martina sono stati cinque minuti fatali, l'altro potremmo prendere anche un altro punto, però non buttiamo niente, sono quattro punti ottimi, tre partite, domenica giochiamo in casa col Fasano, ce la giocheremo in ottima forma.